Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri, veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di Cosa Nostra Palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti, per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico, per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. I pagamenti di Berlusconi in favore di Cosa Nostra erano proseguiti senza soluzione di continuità e dopo la scomparsa di Stefano Bontade e Girolamo Teresi, rispettivamente capo e sotto capo della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù, erano stati effettuati ai fratelli Pullarà, divenuti reggenti del mandamento di Santa Maria del Gesù. I soldi venivano materialmente riscossi a Milano presso dell'Utri da Gaetano Cinà che provvedeva a recapitarli a Stefano Bontade e, dopo la morte di quest'ultimo, li faceva pervenire ai Pullarà tramite Pippo di Napoli e Pippo Contorno, uomo d'onore della stessa famiglia mafiosa. La Cassazione riporta anche quanto affermato dalla Corte d'Appello nel precedente grado di giudizio. La morte di Stefano Bontade e di Girolamo Teresi e il sopravvento di Totò Rine e De Corleonesi non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l'accordo del 1974. Berlusconi infatti aveva costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela ma ad avvalersi piuttosto dell'opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell'Utri. Vergogna! Questa è storia! Vergogna! Vergogna! Facciamoci ascoltare! Vergogna!